buongiorno oggi parliamo di un termine che nel nostro vocabolario corrente è usato solo in un caso un caso non molto positivo ci arriviamo con calma il termine greco da cui partiamo in realtà è invece un termine di una notevole complessità e ricchezza direi è xenia xenia ha a che fare con xenos lo xenos è lo straniero ma anche l'ospite la xenia era l'istituzione della dell'ospitalità della dell'amicizia nei confronti di chi arrivava forestiero viandante da un altro paese era una un'istituzione fondamentale nella grecia antica vi faccio un esempio bellissimo che è cantato dagli edi omerici nell'odissea quando odisseo arriva nell'isola dei feaci ormai alla fine del suo lunghissimo viaggio quasi al decimo anno di questo di questo viaggio fatto di naufragi avventure eccetera è quasi arrivato a casa naufraga di nuovo però viene accolto appunto viene ospitato in un'isola dove questa questa legge questa istituzione è forte e in che consiste nel non domandare alla al forestiero al viandante chi lui sia non domandargli il nome non chiedergli dove stia andando cosa stia facendo quali siano i suoi interessi semplicemente ospitarlo dargli un posto a tavola offrirgli un pranzo offrirgli qualcosa da bere e semmai creare una situazione positiva per per anche non solo di cibo e bevanda diciamo tant'è che viene chiamato per odisseo di cui nessuno sa l'identità un cantore il famosissimo cantore cieco demodoco che intona dei bellissimi canti odisseo piange sono storie bellissime che vi consiglio di leggere bene lì è un esempio proprio modello di quest'istituzione antica che in realtà era un'istituzione non così diciamo così ideale come saremmo portati a pensare dice sai ospitavano chiunque arrivasse aveva i suoi caratteri talmente forti e positivi che ne aveva altri altrettanto forti e negativi perché se il viandante invece che era arrivato forestiero non apparentemente non malintenzionato poi si rivelava invece nemico e non non semplicemente straniero e ospite ma anche nemico beh la punizione era dura molto dura pensate a paride il principe troiano che viene ospitato da menelao nella sua reggia a sparta e viene accolto con tutti gli onori della xenia ospite straniero quindi accolto viene accolto nella casa di menelao menelao si deve assentare paride ruba seduce rapisce non si sa bene quale sia la storia comunque sia con elena porta via elena la regina di sparta moglie di menelao la porta via la porta via con sé a troia allora la punizione è terribile è una guerra addirittura che spazzerà via la città del traditore spesso si pensa che lì la punizione sia contro elena o contro il tradimento di elena la punizione soprattutto contro il tradimento dell'istituzione sacra dell'ospitalità chi viene ospitato deve essere deve deve rispondere con tutto nella maniera consona congrua sei stato ospitato devi ringraziare devi mantenere il vincolo dell'ospitalità bene lo xenos quindi viene accolto è amico il termine greco moderno che più racconta continua a raccontare questa questa attitudine dell'istituzione sacra della xenia che ancora molto presente nella grecia di oggi è ancora presente nella grecia d'italia ovvero sia nel meridione d'italia ma direi che ancora molto presente nel mediterraneo ovvero sia la filoxenia abbiamo parlato di filia quindi di amore verso lo straniero filoxenia amicizia amore verso lo straniero non malintenzionato che ci porta ricchezza ci porta nuove consuetudini nuovi modi di vedere la vita nuovi modi di vedere il mondo è una grande ricchezza purtroppo xenos noi la xenia non la usiamo per per raccontare tanto la xenia ma quindi la l'ospitalità ma più che altro la paura l'orrore il timore la fobia e quindi l'odio nei confronti dello straniero che dovrebbe essere ospitato e si tratta di un termine molto molto usato in questi in questi ultimi anni che è xenofobia alla prossima